L'immunologia è quella scienza che studia come l'individuo si difende dagli agenti esterni, siano essi agenti batterici o virali. Il più grande traguardo che ha raggiunto la ricerca immunologica nei confronti del virus SARS-CoV-2 è stata proprio la possibilità di sviluppare vaccini efficaci attraverso diverse tecniche di immunizzazione e permettere quindi di supplire all'organismo tutta una serie di antigeni, che sono le molecole che il sistema immunitario riconosce per fare anticorpi e in maniera particolare nei confronti del virus SARS-CoV-2 la molecola spike e quindi grazie proprio a tutti questi enormi progressi oggi disponiamo di una decina di vaccini che stanno contribuendo in maniera importante a cercare di ridurre la mortalità di questa malattia. Nel Policlinico Campus Biomedico la ricerca sta sviluppandosi nei confronti di questa malattia in maniera molto articolata. Ci sono ricercatori clinici che stanno sperimentando nuove possibili terapie o nuove possibili strategie terapeutiche utilizzando farmaci anche ben noti. C'è poi tutto un grande campo di ricerca sperimentale a cui anche noi stiamo partecipando per cercare di identificare quei meccanismi immunologici che sembrano proteggere alcune parti della popolazione da un'infezione grave da virus SARS-CoV-2 rispetto a altre persone che invece si ammalano di una forma molto grave e quindi identificare tutti quei possibili meccanismi molecolari e cellulari che permettono una migliore risposta nei confronti del virus in futuro ci permetterà di proteggere molte più persone conoscendo molto meglio come si comporta il sistema immunitario nei confronti di questa infezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.